Ciao a tutti amici, benvenuti in una nuova puntata di Radio Tomodashi, buon venerdì a tutti, benvenuti, bentrovati, ciao ragazzi, ciao 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 ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti. Oggi parliamo di un tema molto particolare, è un tema che è spuntato nella testa qualche giorno fa, anzi un mesetto fa all'incirca, tant'è che ho pensato di chiamare l'ospite che mi ha ispirato effettivamente questa idea, perché mentre giravo su TikTok, mentre giravo su Instagram, e ciacciando tra i reel, scorrendo più e più volte mi compariva il volto, il volto di un omone che con questo fare molto entrante, per certe persone anche arrogante, parlava di cucina e la cosa che mi incuriosiva è che prendendo per il culo le sfide alimentari di questi americani che mettono all'interno dei propri patati di tutto, il cheddar, a chili, creme, maionesi, ketchup, ci istruiva sulla cucina, sui propri ingredienti, su quello che va utilizzato in cucina al meglio, parlava di salute, parlava di come si dovrebbe perseguire per una corretta alimentazione, quindi ho pensato invitarlo insieme a una persona che invece probabilmente conoscete molto bene, per parlare di cucina e comunicazione, cioè di parlare di come si comunica la cucina nel 2023, sui social, su TikTok, sui reel, anche su Instagram ovviamente, che ormai è introdotto il reel da mo', e quindi ho deciso di invitarli per vedere come queste persone riescono ad alternarsi tra social e lavoro, che se ci sono state delle conseguenze del loro divertirsi sui social nel loro lavoro e viceversa, e insomma lascio la parola a loro perché ho parlato fin troppo, quindi direi benvenuto a Il Mori, ciao, ciao Guido, Ciao, buonasera, allora io direi il sottotitolo potrebbe essere Nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai in una selva oscura in cui la sciccia l'era smarrita, esatto, e da qui si può partire. Eh sì, anche perché la sciccia ce la fornisce in questo caso mio padre, che invece è Fabrizio Moccia, vabbè che conoscete tutti, è veramente mio padre che gestisce un ristorante che si è... Non è il meme. No, no, non è il meme, non è il meme mio padre, ma è proprio mio padre, e lui ha deciso di improvvisarsi negli ultimi anni frontman del ristorante, ha deciso di metterci la faccia con video più o meno comici, dove fa vedere, comici o comunque di intrattenimento, dove mostra le proprie carni, le proprie primizie per invitare le persone a raggiungerlo al ristorante. Mentre Mima ovviamente che è la chef sta sempre in disparte perché evita di memare, evita di fare la frontman in questo punto di vista. E quindi volevo partire proprio da questo punto, da internet, dai reel, dai meme, per chiedervi, voi, fuori dal meme, cosa fate? Ora, di Babbo lo sanno un po' tutti, però facciamo finta di essere professionali e lo reintroduci. Però partiamo da te Guido, che cosa fai te nella vita di tutti i giorni? Qual è il tuo lavoro vero? Beh, è un bel casino. Allora, partiamo, partiamo. Allora, l'attività principale è l'attività di formazione, cioè io amministro con la mia azienda dei corsi di formazione in ambito culinario suddivisi fra master e corsi d'alta formazione, quindi con accesso dalle universi post-universitari o dalle scuole medie superiori collegati all'Ateneo. perché io ho sempre avuto un grande problema, era il rapporto di quando studi, che cosa ti dà questo studio, cioè avere un rapporto intrinseco con il valore didattico, ma anche non avere poi la scorciatura di aver fatto magari una grande scuola, ma che non ti vale una mazza in tasca. E avendo amministrato per anni altre situazioni, particolarmente una in cui non c'era poi la corrispunzione finale del titolo di studio rispetto al CILO che avevi fatto, ho deciso di intraprendere il primo lavoro con l'università, che ha sempre guardato con aria un po' di schifo l'idea della cucina. Ora, questa ve la racconto perché è bellissima. Io sono laureato in chimica, poi se tanto si riprende... Sì, non ti preoccupare, poi come ti pare. E quando mi sono laureato in chimica, io ho provato a fare all'università di chimica di Firenze, che tutti diranno, io perché sono andato a studiare a Harvard? Beh, insomma, l'aromaticità del benzene è stata scoperta a Firenze, uno dei più grandi chimici fisici del mondo, il dottor Califano, insegnava a Firenze. I toscani sono i più campanilisti a ragione. Califano è napoletano, comunque. Sì, sì, però era una grandissima università. E a un certo punto io penso, io sono sempre stato innamorato del vino, degli alimenti. Poi mi si è intrecciato il lavoro in cucina con quello di scientifico. E ho pensato, io mi iscrivo al corso di chimica degli alimenti. Ma arriva uno, di cui non posso fare il nome perché sennò becco una denuncia. Che fa? Sì, io il vino non lo bevo. Bevo solo Coca-Cola. E l'olio, io uso solo olio di semi. Io che ero, beh, scappato, gli ho detto, scusi professore, ma lei che cazzo ci fa? Quindi questa era la situazione del legame fra l'università, uno dei più grandi compartimenti italiani, importanti, che sono proprio quello degli alimenti. Cioè preferiscano, e anche giustamente magari, fare ricerca in ambito chimico-fisico, ma lasciano quello che è un enorme patrimonio culturale e economico, che è la parte della cucina. Io ho voluto, con il mio ateneo, che è l'ateneo telematico di Firenze, Yule, mettere insieme questi due argomenti e creare un corso, sperando domani di creare l'Università di Arti e Scienze Culinarie, che potesse dare un titolo di studio e una formazione di alto livello. E la risposta l'hai avuta comunque? Sì, siamo rimasti in piedi anche col Covid, quindi sì, è funzionato bene, siamo alla quarta edizione, quindi io sono molto soddisfatto delle varie cose. Poi ho fatto, detto proprio in tre parole, un'azienda di consulenza in ambito ristorativo che lavora da una decina d'anni, le ultime due sono state in Manifattura Tabacchi e Ditta Artigianale, quindi aziende grosse, da cinque, sei locali in su. Ho un'azienda agricola e un'azienda invece che si occupa di beneficenza, diciamo, di rintrodurre all'interno del mondo del lavoro persone che hanno avuto difficoltà e con queste, Food for Social Inclusion, abbiamo aperto una gelateria a Bologna. Quindi queste sono la collana delle mie attività. Quindi hai molto da fare, non ti fermi mai, diciamo così. Beh, lavorare a me è garba. Ora il giochino è, ho aperto una mia scuola, quindi prima lavoravo col Cordon Bleu, ora che ho diretto per una decina d'anni, ora ho aperto una mia accademia che si chiama Università della Cuscina. E ora sto adocchiando un'altra attività. Non ti fermi mai. Beh, però insomma, la parte dell'azienda agricola mi sta garbando un sacco. Bene. Babbo, invece te cosa fai? Fingiamo questa cosa, dai. No, no. Innanzitutto è stato un piacere trovare Guido, perché per caso un giorno, in uno dei pochi pranzi che abbiamo fatto insieme a Dario, ci siamo accorti che tutti e due seguivamo Guido e quindi si parlava appunto di questa cosa e ci siamo trovati tutti e due amanti dello stesso tiktoker. E questo... È vero, è vero. E non ci avevo mai pensato poi di ritrovarmelo qui con me a farmi compagnanzi. Abbiamo cenato anche insieme. Questo è maggiore proprio bene. È stato bellissimo. E niente, la nostra attività di Via di Guincere è ormai chi segue Dario un po' la sott'occhio e abbiamo costruito il ristorante, il primo ristorante bioedile della Toscana con la prima vela fotovoltaica in Toscana nel lontano 2006 quando nessuno credeva ancora nel fotovoltaico. Io ho creduto nel fotovoltaico, nelle energie rinnovabili, che recuperavo già l'acqua piovana per i WC, tetto in zinco titanio. Insomma, tutta una struttura in cui credevo. E abbiamo costruito di sana pianta questo ristorante dove dentro volevo dare qualità. Ed eccomi qui, insieme a Cristina, abbiamo... Quando ti sono arrivati le sovvenzioni nel 2011 per rifare i tetti, mi immagino a Matte Pestemmi te l'hai tirato per averlo già rifatto. Però... Considerando il volume, ti sarà costato una casa in mare. No, però devo dare atto quando c'è allo Stato, in questo caso alla regione toscana, anche se io non sono apolitico, però quando c'è una cosa fatta bene, non avevano denari da darci per la nostra costruzione bioedile e ci dettero metri. Cioè, ci dettero potete costruire 100 metri? No, potete costruire 130 perché avete costruito in questa maniera. Non mi sono pentito di niente. Non è male. No, no, non è assolutamente male, perché poi i soldi spariscono mentre i metri rimangono. Sì, anche... Vero, vero, vero. Sì, poi la cucina è un'emma abbastanza larga. Eh, accumente. Quindi, niente, avevo avuto altre esperienze di altri locali, preserali, robe qui e là. Diciamo che con l'età ho cercato di adeguare il mio lavoro all'età che avevo. Cioè, mi trovavo fuori luogo in un preserale, in un pub e mi sono spinto verso altri metri. Ecco, e arriviamo al dunque però, dopo avervi introdotto. Cioè, che a un certo punto, con tutto quello che avete da fare, perché sì, mi pa e mi ma hanno aperto un pub dal nulla, ti sei messo dietro a tantissime aziende a cercare, a scoprire se è un curioso, diciamo, della tua materia, a un certo punto però siete spuntati entrambi su TikTok e avete iniziato a comunicare con il vostro linguaggio, con il vostro modo di fare, che forse utilizzate nella vita di tutti i giorni, forse non me lo racconterete, avete iniziato a comunicare qualcosa ed effettivamente avete raccolto, anche senza il mio nome, perché c'è la gente che ti segue e a volte non segue me, avviene al ristorante senza sapere nemmeno chi sia, avete raccolto un sacco di persone che vi seguono, vi apprezzano e anche alcuni detrattori che devono sempre rompere i coglioni, però anche di questo parleremo più avanti. C'è una percentuale, io ad un certo punto me la sono anche calcolata quant'è. Ah, addirittura? Sì. Ma io a quel livello di follia non sono ancora arrivato. No, io ho un problema con i numeri, quelli che mi vengono fuori dalla formazione. Allora, ad un certo punto mi sono accorto che quando compariva il testa di cazzo, ad un certo punto era l'indicazione che era successo, che avevo superato un limite di visualizzazioni e questo limite di visualizzazione ad un certo punto l'ho proprio descritto, perché sopra i 160.000 visualizzazioni iniziavano a venire fuori un sacco di commenti di gente che faceva buca, come si dice in Fiorentino, e lì uno mi disse, mi scrisse, e questo è stato un motivo, ma non lo vedi che ci sono dei commenti negativi? Allora stai sbagliando. E io gli feci il calcolo dei commenti positivi, le visualizzazioni e le interazioni. E lui era lo 0,078%. Non è male. No, no, così è buono, è una bella media. Sì, sì, infatti dicevo una bella media. Una bella percentuale, sì, certo. Ecco, ma quando è che avete deciso, ok, metto su TikTok, quando è che avete scoperto TikTok e avete detto, forse ci posso arrivare anch'io su questa piattaforma? Cioè, com'è venuta la prima idea? A me, francamente, mi è venuta solo perché dovevo comunicare un messaggio. E lo spiegavo a Guido prima. Il mio cruccio, la mia fissazione è quella dei prezzi. E te lo sai, Dario, quante volte te ne ho parlato. E allora io, siccome per lavorare la qualità assoluta bisogna avere dietro delle spese, e quindi bisogna anche che il cliente poi paghi, allora io ho detto, come faccio a far capire alle persone? Mettimi lì, non sono a fare gli spiegoni, non sono il tipo, non sono nemmeno me stesso. Ho detto, ci scherzo, ci scherzo sopra. Intanto cosa succede? Presento il prodotto, lo faccio vedere, lo indico. Il cliente si può andare a informare, può fare una ricerca, può vedere se io sto dicendo una stronzata oppure no, eccetera, eccetera. E quindi, quando la gente arriva, sarà già predisposta a questo. Ma infatti la problematica della grossa che c'è dentro la parte alimentare è far capire che c'è una correlazione fra costo, qualità e il livello di quello che stai prendendo. Ora, la battuta è questa. C'è un macellaio dalle parti di casa mia che tutte le volte dice, assaggia questa bistecchina, lui c'è tutto il scottone, che l'è morbida e tu la fai mangiare con i labbruzzi. E questa cosa qua è, tutte le volte che me lo dici, gli dico, allora non la voglio. Quella è quella che io non voglio. Perché il morbido e il poco costoso sono sinonimi di bassa qualità dell'oggetto messi insieme simultaneamente. Spiegarlo è fondamentale. Spiegarlo secondo me è fondamentale perché almeno, ripeto, le persone sono preparate e sono informate perché è proprio quello che, cioè il costo di un piatto deve partire sì dalla materia prima ma poi deve partire dalla presentazione, dalla pulizia del locale, dalla pulizia della cucina. La nostra cucina ogni sera viene smontata, le affettatrici vengono fatte letteralmente a pezzi, tutti i bordi delle cappe, tutte le sere, perché dice la Cristina, se la lasci andare una volta non la riprendi più. Per riprenderla ci vale un sacco di tempo. E quindi ecco perché arrivano i 17-18 collaboratori, perché i soldi che un cliente deve spendere da te devono essere valorizzati, questo è il mio cruccio, è la mia fissazione, perché o povero o ricco, questo non è un problema mio, tra virgolette, ma chi viene e viene a qualsiasi livello spende soldi e tante volte ne spende tanti, quindi il nostro compito è solo quello di dare valore ai soldi che portano. Poi c'è sulla questione del posto della carne, c'è la tematica di grande livello etica, come cosa? C'è una tematica, ma noi toscani, soprattutto noi toscani, e qui non so Guido, ma io mi espongo perché tanto ormai mi sono già esposto tante volte, abbiamo tanta responsabilità, perché noi toscani con tanti locali, tanti macellai, tanti commercianti hanno fatto credere a tante persone che la ciccia è ciccia, non che la carne è carne, cioè che tutto è ciccia. E poi noi commerciamo una razza che non esiste. Che non esiste più. La chianina non c'è. Te scusa, quanti anni hai? 44, 45. Eh, ok, io ne ho quasi dieci anni più di te, no, ne ho più di, ho dieci anni più di te e io forse ho visto le chianine, forse le ho viste attaccate ai carri, forse le ho viste di sei, sette anni. Attaccate ai carri? Certo. Eh certo, perché servivano a quello. Servivano a quello. E oggi si vende dei vitelloni con un manco. Un incrocio fra limusine e chianina, che non è chianina. Che non è chianina. E tra l'altro non sono nemmeno allevata in Toscana di solito. Assolutamente no, Umbria e roba varia. No, no, anche molto più in là. Non mi vuoi ingraziare. Anche molto più in là. Perché poi c'è, se te le rintroduci, la carne ritorna made in Italy, una volta fatto un periodo all'estero, viene affinata e macellata in Italia, ritorna made in Italy. Ah sì, sì. Potrebbero essere rumene, polacche. Come prosciutti di Parma che vengono all'Ungheria, poi finiti a Parma e diventano prosciutti di Parma. Stessa cosa. Siamo andati decisamente, sembra, qualcuno in chat ha detto, siamo passati da Radio Tomodashi alla chiacchierata a fine servizio. Effettivamente Semiglia ha un po' una chiacchierata. No, no, va bene. Nessuno di noi è ubriaco. No, no, per ora no. Quindi c'è un problema a fine servizio. Ma quando si parla con delle persone che ti ci puoi affrontare, Dario viene un po' da sé, scusami. Sì, 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 no, ma fate come vi pare. A me, io vi ascolto con piacere. Allora io TikTok l'avevo affetto qualche tempo prima, però non l'avevo utilizzato più di tanto e a un certo punto, 2022, giugno, colpo di mano vado in vacanza, in mezzo al casino più totale, e mi fa la mia responsabile del marketing. Oh, ma invece di non fare un cazzo, cioè almeno fai qualche video. Io gli ho fatto Claudia, io non c'ho voglia, mi rompo le palle, non so di che parlare. Prendi, tu prendi un canale, prendi questi vuochini da strapazzo e tu spieghi dove stanno sbagliando, quali sono gli errori tecnicamente e se ci sono dei pericoli alimentari in quello che fanno. E io fino a quel momento TikTok non l'avevo assolutamente guardato, ho detto vabbè, aggiungo almeno i 12-13 chef più importanti che ci sono in Italia partiamo dai tre stelle e ce ne erano presenti zero. Ho detto vabbè, ce ne sono 13 e basta, le tre stelle proviamo con i due stelle. Oh, non c'era nessuno! Ma perché secondo te? Perché è un mezzo che era riservato, ormai non è più così, ha una fetta di pubblico estremamente giovane e era anche autoreferenziale come struttura e quindi hanno preso piede tutta una serie di influencer che non sono cuochi, non hanno cultura alimentare, non hanno avuto formazione e propongano delle ricette, a volte fatte male e questo vabbè uno ci fa una battuta sopra, a volte pericolose. sul pericoloso la battuta diventa invece un'analisi vera e propria, cioè uno dice è successo questo e questo, questo non lo puoi fare e non va bene, quindi da lì è partito, ma io non ci avevo a giugno del 2022 ci avevo 10.000 follower, poi ho iniziato a farli, nell'estate sei salito tantissimo in poco tempo, 100.000 follower sì circa, ok, mi ricordo scusa senza fare nome perché l'hai già fatto abbastanza incazzare quello che ti faceva la bistecca bruciata che poi è nelle tue zone e quello si incazzò per davvero, certo quello si incazzò per davvero ma se tu gli mandi, se tu gli fai una segnalazione nasa si dà una tranquillizzata perché l'IPA sono proibiti per legge dalla comunità europea e mettere una carne, particolarmente se trattata con l'olio, direttamente sulla fiamma viva produce idrocarburi pollicilici aromatici che sono tossici e cancerogeni, quindi nel caso della rilevazione di questi sull'alimento hai una penale da 3 a 7 anni di reclusione. sì, ecco, a me colpisce questo, questo è lo Sherlock Holmes degli ingredienti, cioè anche prima al ristorante toccavi le cose, questo viene e questo è dell'anno, questa sapidità, c'è una cosa assurda però nel senso che sono cose che si assaggia sempre in cucina, però dopo un tot di anni di lavoro diventa una sorta di biblioteca con le zampe e molte cose le puoi vedere automaticamente senza... senza documentarti più di tanto, perché le sei già assimilate sì, le vedi, senza alcune cose le hai riprovate, le vedi, non so se vi capita mai ogni tanto a me capita, io ho la moto, vado in giro per Firenze, perché ormai Firenze tra piste celabili e zone blu non ci si va in nessun'altra maniera e quando passo sento l'odore della ciccia alla griglia e ti so dire, ora non tutta, però per esempio quella polacca della metro o ora ne era uscita un'altra rumena che aveva un odore preciso del grasso, ti so dire più o meno che cosa stai grigliando bello come io con le carte che annuso e capisco da dove viene la carta, a me piace parecchio eh beh sì, ma poi il naso si sviluppa tanto in cucina, è una roba per cui si affina e ti dà anche delle grandi soddisfazioni, devo dire e ora voglio fare una domanda a tutte e due su una cosa che mi è sempre incuriosito soprattutto, ora te ti conosco, però a guido no, voglio capire nei vostri video quanto mettete di vostro e quanto invece spingete sull'acceleratore perché spesso si è se stessi, però spesso è bello anche un po' enfatizzare i lati caratteriali che ci caratterizzano di più per divertire, per intrattenere, oppure per scatenare una reazione per provocare te guido quanto lo fai questo processo, cioè te quanto sei te stesso nei video e invece quanto esageri io nei video cerco di limitare due cose, le parolacce e le bestemmie queste due cose cerco di limitarle perché rischio particolarmente su Instagram di essere bannato cosa che molto spesso mi è successo quando mi scappa fuori l'indole imprunetina, fiorentina che è bella, focosa, come cosa quindi cerco di evitare, di arrabbiarmi più di tanto o di tirare fuori una... però per me funziona così allora io vedo una cosa, prendo il cellulare, lo apro, registro il video e lo pubblico cioè non monto, non taglio, non lo rifaccio cioè per me è una presa diretta totale proprio sì, totale io invece qualche volta pensavo che rifacessi completamente il video ogni tanto mi scappano le parolacce e allora lo devo rifare da quanto sei incazzato? ho balbetto perché mi sto innervosendo e allora lo devo rifare ma ce ne sono alcuni che veramente mi tirano fuori delle incazzature a tipo? l'ultimo che ho visto pubblicato da Giallo Zafferano che non fa nomi e che mi odiano tra l'altro perché collaborano con l'Alma e io tutte le volte, io lavoro anche all'Alma, sono uno dei più vecchi insegnanti li cazzo e ce n'è uno che mi ha fatto particolarmente arrabbiare è questo c'è una specie di cuoco che per chiamarlo quello cuoco ce ne vuole inventiva che fa un petto d'anatra in una specie di sous vide io sono il maestro del sous vide cioè è proprio la mia tecnica la insegno da più di dieci anni palle sul tavolo proprio quella sul sous vide proprio è la mia tecnica fa una specie di sous vide fatto così malino diciamo, malino e poi piglia, brucia il burro bello forte ci vuoce la roba dentro poi ci ributta altro burro e ci fa la salsa allora in quel caso là il burro anche se è chiarificato perché se entra in contatto con l'alimento ci sono dei fenomeni di ossidazione idrolitica diventa in parte o in gran parte acroleina la acroleina è tossica e cancerogena quindi se su uno dei canali più grossi d'Italia pubblichi un video che magari qualcuno rifarà e potrebbe farsi seriamente del male ora a me questa cosa qua quando l'ho visto io ringrazio il cielo che loro mi abbiano bloccato la possibilità di duettarli video perché mi è bastato provare a scrivere e mi sono così innervosito che l'ho dovuto riscrivere 4 o 5 volte ah perché li scrivi video no no loro mi hanno bloccato la possibilità di duettarlo quindi io gli ho fatto non lo posso né duettare giallo zafferano ah non puoi ah ho capito cioè te volevi scrivere proprio un post no io volevo volevo duettarlo però non me lo fanno più fare allora l'ho messo fra le mie storie e gli ho scritto sopra una cosa che del cioè però non riuscivi a scrivere se io no mi stavo incazzando talmente tanto una volta tira anche il cellulare per te è proprio una roba a me qualcuno le fa in maniera a parte che la cucina cultura arte sono intessute insieme e in più rispetto all'arte che è qualcosa che ci nobilita e ci riempie magari di uno spirito infinito o di qualche cosa che esuli dal corpo fisico la cucina si intesse con il ricordo la tradizione e la propria idea che noi si ha di famiglia di società ma anche di parola di discussione e il fatto di violentarla per me è una cosa cioè è come se uno prendesse la bandiera dell'Italia e ci si pulisse il culo a me mi fa girare le scatole ci stavo mi sembra una violenza veramente forte come cosa poi te che ci hai studiato e hai lavorato una vita ma a me viene in mente della mia nonna che mi faceva tortellini o quell'altra che era mezza veneta e mezza livornese e faceva le zuppe di pesce sono dei ricordi che sono collegati alla memoria ai ricordi belli mi viene in mente la carbonara del mio babbo oppure il pollo che faceva la mia mamma allo stile del cibreo cioè mi vengono a mettere dei ricordi e questi ricordi se tu me li manometti con una violenza del genere mi realizzano una difficoltà interiore forte capisco capisco hai mai ricevuto denunce mi ha denunciato soltanto una volta un parlamentare del movimento 5 stelle perché ho ripubblicato una roba che aveva denuncio che aveva pubblicato un parlamentare del pd tra l'altro uno dei commenti più tranquilli che ho fatto nella mia vita e avevo scritto accidente empoli quindi porca miseria però questo volpe ha denunciato volpe si lui e tutti gli altri collegati e ha perso la causa ah volpe ho capito chi è no no è una volpe ma non è cognome no no che era proprio una volpe perché ha denunciato ha denunciato lui e tutti quelli collegati e ha perso la causa io non so quanto avrà pagato perché tipo l'avevamo ripubblicato un 360 questa è stata l'unica denuncia che ho ricevuto in questo campo qua però invece ho denunciato un paio di volte un paio di galletti e uno ne ha pagato le conseguenze molto seriamente ok babbo invece tocca a te volevo capire questa roba qua io quando faccio video poi le cose mi scaturiscano al contrario suo non faccio i numeri ma mi incazzo veramente tanto e mi incazzo soprattutto perché chi fa commenti e chi mi segue lo sa sono i classici maritini i maritini ma questa roba qui non è mai cioè fatti fare una bella statistica dal mori sono i classici maritini che la domenica lavano la macchina che vanno sono quelli del culto del barbecue è certo è una setta è una setta fammi finire quelli che vanno in bici che ti danno noia con la macchina quelli che poi arrivano la domenica accendono questo barbecue col catrame e si mettono a fare la carne o qualcosa del genere e non sanno che io prima di essere lì sono stato sei anni davanti al fuoco fronte fuoco a provare a buttare via cose a provare se quello mi veniva così o quell'altro mi veniva così perché non sanno che ogni tipo di carne ha una fibra diversa va cotta in modo diverso le distanze vanno messe in modo diverso eccetera 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 ora io che ho questo progetto perché ho questo progetto perché voglio essere sempre un passo avanti no? non per superbia ma perché voglio che qualcuno mi veda e sto cercando di portare più possibile la carne in cucina ok? dalla griglia la sto spostando tanti piatti li sto spostando in cucina con l'aiuto di Cree che mi dà una mano che mi sopporta eccetera eccetera e li commenti dei soliti maritini sì 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 e allora io contro questi maritini faccio questi video perché mi fanno veramente incazzare e poi ti stimolano di rifare 20 volte su quello ecco su questo invece ecco questa è la cosa più bella che mi capita anche a me capita anche a me di di fare una battuta questa battuta scaturisce ovviamente una reazione nel pubblico che si incazza allora io la faccio 10 volte sì è capitata anche a te io sono fatto così se mi fai titì io te lo dico tit 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 ci sta tutto il giorno poi c'è una situazione che ti ricordi che è andata così che hai fatto una battuta e te sei accorto che c'è stata una reazione ma allora la cosa è che mi chiedono spesso quando mi scrivono su Instagram e mi dici perché ripubblichi questo video che hai già pubblicato è perché io ripubblico il video che è stato commentato da un hater cioè se lui me lo commenta io lo ripubblico ok così ne arriva un altro e lo ripubblico un'altra volta ma c'era un periodo che avevo questi tre video di Nistore che li avrò ripubblicati 200 volte infatti uno io non so quanta visualizzazione abbia fatto ma su Instagram fare un milione e mezzo di un milione di visualizzazioni è tanta roba è tanta roba è tanta roba quello siamo su sti livelli qua quindi quello l'avevo ripubblicato a Iosa e ogni tanto ritornava qualcuno che mi scriveva le solite banda di Biscarati e io glielo ripubblicavo un'altra volta ma l'avrò pubblicato 200 volte e ce l'hai un hater storico te? sì uno di questi che non so chi sia cioè che duetti cioè uno di questi di questi alcuni mi hanno proprio bloccato alla grande e non non li posso più commentare con alcuni ci sono anche diventato amico ah è successo tante volte anche a me per esempio con Nerone che era uno che l'ho commentato diverse volte alla fine sono diventati amici cioè lui mi sta simpatico però quando fa una cagata in cucina gliela scrivo magari se me ne fa una lamorosa gli ho detto non fa più video sulla carne perché se ne rifà un altro te lo riduetto di sicuro però è simpatico effettivamente simpatico invece altri che vanno perché quando hai tanti follower ti senti una star e non riescono a capire che non sono star hanno occupato semplicemente uno spazio che era completamente vuoto ma non hanno fatto qualche cosa assolutamente per cui sono spiccati sugli altri che so prendiamo per me un caso che ci sono stato anche un po' a ragionare sopra avete presente quello che fa Panini quello napoletano sì donato donato ok lui è secondo me l'esempio della mediocrità cioè uno che fa un panino mediocre un genere alimentare mediocri e che è diventato una star ma perché è diventato una star perché se te come star prendi un calciatore ora io non lo seguo il calcio quindi non metta di nomi perché non ne so nessuno però è un atleta qualcuno che nella vita ha fatto degli sforzi notevoli per arrivare a quel livello lì quindi mi ricordo ogni tanto una cosa che mi ha colpito era mettevano delle altezze a cui saltavano i calciatori per colpire di testa che sono tipo 30 centimetri in più di quanto tutti riuscivano a fare e questi li saltavano normalmente quindi arrivare a quel livello ti devi fare il culo se vuoi arrivare al suo livello di carne ti devi fare il culo se vuoi arrivare al mio livello per quello che riguarda la cucina la scienza devi quantomeno studiare se vuoi arrivare al livello di bottura e figurati apriti cielo ma se vuoi arrivare al livello di donato devi fare un panino quindi se il mito diventa qualcosa che è assolutamente raggiungibile te non hai più l'ansia di dover arrivare a diventare di più quindi sei tranquillo perché a quel punto chi diventa di più chi diventa il mito chi è baciato dalla fortuna e si entra dentro quello che è il Deus Ex Machina non sei più il responsabile del tuo futuro ma è la sorte e quindi puoi non fare un cazzo perché tanto non è il tuo impegno che ti rende migliore ma è la sorte ecco a me questa cosa qua mi ha fatto quando l'ho realizzata e l'ho iniziata a spiegare su Instagram l'hanno capito subito su TikTok che sono un pubblico molto più giovanile non ci avevano le chiavi culturali per capirlo quindi mi rispondevano dicendo ah perché non ti sembrano buoni quegli alimenti ma non è questo il punto no usa delle roba mediocre però non è questo il punto ok ho capito il punto è che non si è fatto il culo così tanto ma il punto non è lui sono contento che lui abbia la sua attività ma come importi di un salumiere il punto è che lui è per diventato per due milioni di persone un mito un mito dovrebbe essere qualcuno che ti ispira a diventare meglio non qualcuno che ti ispira a fare un panino ok è proprio questo io perché io a volte ho ripubblicato delle cose di guido proprio perché ci vedevo io parlo di video dove spiegavi delle cose serie dove spiegavi delle tecniche serie lo ripubblicate perché vedevo in quello che dicevi quello che pensavo allora cosa ho pensato fra di me se lo dice una persona che insegna che si occupa di questo di quell'altro avvoloro ancora di più quello che penso avvoloro le mie tesi e a tutti questi che a parte gli scherzi li chiamo maritini ma che si improvvisano che poi sono cento perché gli dico attenzione maritini pensate le vostre mogli perché quando voi state lì a commentare io non ce la faccio più scappano capito io non ce la faccio più ma tu passi più dalla porta ho poi tratto la volpe vi siete uniti contro di me stasera una cosa assoluta allucinante comunque a parte questo argomento e te babbo ce l'hai later storico no no meno male anche perché ora ho molti meno commenti perché mi hanno capito hanno capito quello che voglio fare e quello che voglio dire no no ho fatto dei video anche da un milione e otto due milioni di visite ma solamente a fila cortelli i braccialetti l'orologio e poi se ti casco un braccialetto nella carne non tu lo vedi è vero però ecco un giorno un giorno Guido andai mi misi tutti fasciati tutti tutti i polsi e così ho detto ecco Maritini ora siete felici che mi sono fasciato tutti i polsi e così e almeno era tutto vabbè ha risposto ecco sono quei video che fai apposta per rispondere a chi ti rompe i coglioni un pochino ci riaschi sempre e invece tralasciando il tuo lavoro normale diciamo così il tuo lavoro di influencer ti ha dato anche delle soddisfazioni dei momenti commoventi delle cose che ti hanno detto cazzo che bello ho dato una mano a qualcuno dei momenti belli ecco che legati al tuo essere social beh allora intanto io ho ispirato ho fatto un nuovo format che è quello di parlare dei fatti miei senza filtri e senza rispettare hashtag musica e tempi quindi ho per esempio anche dei video di 10 minuti di chimica ma anche un paio di live me ne sono accorti una volta ne feci una sul risotto da 46 minuti in cui spiegavo tutte le varie fasi le varie cose rispondevo alle domande ma era una roba che era completamente fuori dagli schemi e questo fare fuori dagli schemi io ho capito una cosa è che le bischerate che mi raccontavano prima devi fare i video corti devono essere video che divertenti devono avere una bella musica devono avere dei bei suoni sono stronzate i video che funzionano sono video che hanno contenuto e più contenuto spandi più rendi il mondo bello cioè più riesci a buttare dentro il mondo arte bellezza più questo mondo diventa interessante più gente inizia a fare come te l'hashtag non è cucina non è mio l'hashtag non è cucina è un gruppo di cuochi che hanno detto facciamo un hashtag che mettiamo e che questo hashtag marchi le ricette che sono fatte male e insieme si è costruito questa cosa qua e è una cosa ora non è cucina l'avevo trovato io però insomma è una cosa che si è costruita insieme cosa mi è piaciuto mi è piaciuto le persone che quando hanno visto una spiegazione e magari hanno risposto anche a volte in maniera un po' iraconda perché i social spingono molto a dare delle risposte pessime sono diventati invece poi più miti quando gli ho spiegato come funzionava ora su un video che ci siamo scambiati prima in cui si vedeva uno che faceva una sorta di Giovanna d'Arco con una bistecca e molto spesso mi hanno risposto a questo video e gli spiegavo il perché quando glielo ho spiegato alcuni hanno detto ah grazie mi può dare delle pubblicazioni gli ho indicato libri le cose e sono costruiti un dialogo quando si costruisce un dialogo è carino ora poi chiaramente con i tempi possibili di questo però se uno scrive una cazzata non rispondo o lo prendo per il culo cioè c'è un limite come cosa cioè un limite a quanto uno può c'è una che mi ha paragonato l'omosessualità alla religione cattolica cosa? in che senso? ma poi se c'entrava un video di cucina non lo so no era un video che stavo commentando un'altra cosa completamente perché io poi anche commento politica quello che mi gira insomma mi gira la mattina leggo il giornale e commento e questo qua uno gli ha scritto ma che sei scema ma come fa a mischiare religione e orientamento sessuale ecco io in quel caso ti dico vispo e poi via cioè non non ti sto nemmeno tu sei più vispo del paese che in imprunetino vuol dire qualcosa di ben preciso ecco immaginavo e Babbo me lo stanno spammando da prima e te lo devo leggere per forza mi chiedono che tu racconti l'aneddoto del Pisano e Lamborghini che lasciò una recensione con una sola stela per il prezzo troppo alto sì sì se vuoi raccontare questo signore certo poi lo conosco anche si era comprato il Lamborghini azzurro era venuto che è un omia cioè fra la panda e la punto c'era Lamborghini azzurra però azzurra era venuto aveva mangiato benissimo sì sì faceva un sacco di complimenti e ordinò una madama bianca che per tante persone una madama bianca forse è una cosa da sniffare o qualcosa ma ma dai una cosa ci incastra no invece la madama bianca è una fassona pregiata è una delle migliori fassone che ci sono in Piemonte quindi aveva un costo e siamo in Toscana la ciccia è ciccia quindi per lui i 90 euro che non è nemmeno un robot sei fantasci no appunto perché i 90 euro compreso contorni che questo giochino la gente non lo capisce perché vabbè ma lasciamo perde era il suo prezzo perché sono carni che si paga 38-39 euro il chilo e ci sta e quindi e no appunto poi c'è i contorni eccetera potrebbe essere anche 12 letto quindi no no appunto quindi lui si incazzò e cominciò con questa Lamborghini ma poverino non era ma sgassava un pochino nel parcheggio non ce la faceva uscire se fate voi veramente allora io gli risposi solamente signore abbia pazienza mi faccia il favore non venga più perché ha disturbato tutto lo zen che io ho creato per il silenzio per il flusso dell'acqua se no se no gli metti un pannello fa l'assorbente intorno alla mano ecco sì 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 una volta era a fa benzina e arriva uno con la high end no la high end quando c'era il periodo che vennero a fare gli studi di settore le 4000 le diedero via tutte perché avevano tutti la strizza e li facessero il culo lo studio i ranzani ma li tiravano a un certo punto ero lì vedo questo che passa supera la benzina e va verso il gpl scende io gli faccio tu devi essere proprio un morto di fame per fare una roba del genere cioè c'hai una macchina una 4000 benzina e la metti a gpl vabbè non ce la lasciamo a pagare è così vabbè per lo status sai e te babbo la soddisfazione invece te la sei tolta sì sì assolutamente la soddisfazione più grande che ho avuto a parte le tante persone che mi hanno ringraziato per tante cose hanno chiamato mamma eccetera eccetera e queste per fortuna sono a loro del giorno ma la cosa più bella che ho avuto un ragazzino di Bari che c'è un video su TikTok e su Instagram che ha fatto tantissime visualizzazioni arrivò un ragazzino tipo tuo figlio però molto più sfortunato di tuo figlio e quindi il suo sogno era di fare il mio meme tasse che io quando taglio la carne che trovo duro e anche questo poi è diventato un meme unico lo sforzo lo dovevo avere ricordandomi quante tasse ho da pagare e allora lì l'osso parte e allora dico 5-6 volte tasse e qualsiasi anche anche un bui galiziano da 50-60 kg parte allora questo ragazzino gli preparai un un ceppo basso perché lui doveva stare seduto e gli preparai la mannaia tutto per bene la veniva da Bari con i suoi genitori e gli feci tutto il set e gli feci fare tasse sulla bistecca io se posso tutte le volte mi fanno un meme o una cosa io lo ripubblico sempre lo trovo delizioso mi diverte un sacco come cosa è statimite la forma di adulazione non c'è la fucilata perché la battuta la devi fare per forza non ti ci puoi fermare la devi fare per forza in qualsiasi situazione quindi mi diverte se qualcuno mi prende in giro mi diverte e mi piace e mi piace anche cerchino di costruirci sopra un meme diciamo più che altro una rivisitazione delle mie parole e invece per quanto riguarda il tuo lavoro di tutti i giorni la vita da social ha influenzato il tuo lavorare nelle aziende ti hanno riconosciuto magari riunioni importanti o robe del genere ma magari anche sì ma poi come direttore universitario penso per cui è difficile qualcuno ci si metta a fare uno scherzo sopra però il mio profilo instagram ha più follower di quelli della mia favolta e invece Babbo tanto il tuo lavoro è strettamente legato a quello che fai no vabbè è legato potrebbe anche non fare nulla potrei volendo però ecco hai visto dei benefici comunque della tua campagna TikTok assolutamente sì assolutamente sì gente viene con il piatto che hai presentato gente viene con la bistecca che vuole e lì ti sei accorto che te hai vinto perché hai fatto capire e questi hanno avuto siccome il nostro menù è in rete hanno capito il piatto sanno quanto costa è bellissimo e te lì hai capito che hai vinto io ho una cosa sul mondo dei social e della comunicazione che mi sembra lampante ho visto ora si stava chiacchierando prima a tavola uno è stato un grande chef della cucina e ora si occupa principalmente di social e di trasmissioni televisive che si chiama e quello bassetto che fa quattro alberto Barbieri Barbieri che si è messo a fare un video con Mocho che è uno che fa cucina trash vedere uno chef che è stato uno chef stellato aspetta un attimo cucina trash cosa intendi lui è una roba tipo fast food in cui fat food diciamo fat food in cui il grasso e l'esagerazione diventano predominanti dentro cioè quella che il food porn che è l'altro mio arci nemico vuol far passare come qualche cosa di godurioso cioè più è grasso più è godurioso che è una stronzata pazzesca perché dentro le nostre memorie di roba grassa e goduriosa non ce n'è tanto se ti vai a prendere quello che è veramente mi viene in mente a me per esempio i piatti di Natale oppure quelli delle festività sono piatti che invece nel magro e il contrasto con l'acido c'era una bella una bella struttura dentro però ecco vedere lui che fa un video e osanna questa cosa dei social forum mi fa capire che la comunicazione nell'ambito culinario sta cambiando cioè se per un periodo era una comunicazione ubiquitaria cioè si parlava di tutto e tutto aveva successo 12 quante edizioni ci sono state rimaste una dozzina forse sì 12 20 di 4 ristoranti 52 di 72 alberghi cioè è una roba in cui sono tutti i format fatti e rifatti visti e rivisti quello che non hanno è il contenuto cioè nessuno di questi ha un contenuto culturale di un qualche livello e di un livello che sia magari crescente che ti lasci qualche cosa che sia qualcosa che vada oltre a una risata o all'ansia della scatola scura come si chiama pressure test non riesco a vedere queste trasmissioni perché proprio io le vedo come pallose no offesa ai concorrenti io non le reputo nemmeno cose di cucina mi sembrano noiose cioè quello che manca dentro è la parte di contenuto e secondo me questo sarà il futuro della comunicazione in ambito culinario è smettere di fare i rumorini sui taglieri e di fare ricette io faccio ricette facili che tutti siano in grado di fare ma parlare di un pomodoro spiegare da dove viene che caratteristiche ha che valore ha cioè spiegare quanto è meravigliosa questa cucina italiana che è una delle cucine più multietniche fatte di fusion di cultura di interessi e di ricordo insieme questo sono messo dal futuro della comunicazione ok e io guarda sui social che fa questo lavoro qui che infatti piace tanto anche a me non so se lo conosce è Casa Pappagallo che fa delle ricette semplici molto casalinghe ti spiega molto gli ingredienti ma per lui è molto importante ha un peso anche Max Mariola per esempio è uno bravo con il suo taglio nelle cose o Corelli che è un caro amico che ha un peso culturale però tipo Giorgione ti piace? molto è simpatico e ha questa interazione questa relazione con gli alimenti corporale fisica quasi fisica cosa che fra l'umbro e il laziale è veramente così cioè io mi ricordo io ho fatto questa cosa che farà schiantare io ho lavorato a Gambero per un sacco di tempo a Gambero Rosso e una parte dei corsi di Chef Tech Pro li ho scritti io insieme a Corelli che è un amico e io che mi rompo tanto le balle ad andare per gli strumenti stellati ho trovato una vera hosteria di quelle grandi questa stanza ma ci si stava in 50 e a un certo punto quando siamo andati le prime volte ho fatto amicizia con lo chef il cuoco e la signora la che secondo me non era nemmeno la moglie ma c'era qualche intrallazzo fra di loro e lì io mi portavano a mangiare sempre in cucina e questo ci andavano i VIP romani la quindi mi faceva oh che sta con questo imbecille vieni con me in cucina mi portava a mangiare in cucina io il cuoco non l'ho mai visto in viso era un cubo gigante e io mi metteva a sedere lei mi spostava la roba dal tavolo e io facevo potrei avere tiè magna questo ma scusa io volevo provare io non sono mai riuscito a mangiarci la carbonara cioè non l'ho mai visto tiè magna questo tiè e io mangiavo il punto sto zitto come al cane praticamente oh c'è zitto c'è arriva lei e gli fa ma che vini ha e gli fa oh c'ho tutti e due i vini il bianco e il rosso vabbè allora mi porti il rosso bello 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 sì sì ci siamo quasi in zona ascoltatori però farei forse qualche altra domanda ah uno mi ha chiesto in chat perché consideri la cucina italiana fusion così i tradizionalisti smettono di rompere i coglioni i testuali parole allora intanto non so se avete notato ogni tanto uno becca qualche siciliano che è alto un metro e ottanta ha gli occhi azzurri e i capelli biondi e che magari è sposato con una che è alta un metro e ventisette completamente con i capelli neri e con la carnagione scura secondo voi etnicamente questi due vengono dallo stesso luogo o c'è un miscuglio l'Italia è stata è uno dei paesi più potenti e influenti del mondo ma è stato il paese più potente e influente del mondo e questa potenza e questa influenza ha creato dei corridoi di commercio in particolare in cui tante culture tante razze e quindi tante cucine diverse si sono incontrate ma perché è diventata così potente l'Italia non è che Dante è diventato un grande poeta perché è nato così è diventato un grande poeta perché ha colto tutta una serie di ispirazioni che venivano fuori dalla cultura italiana da quella nordica da quella medio orientale e le ha messe dentro l'italiano ha trasformato questa lingua che si è evoluta nel tempo il latino è sempre stato estremamente in fermento l'ha trasformato nell'italiano vero e proprio in una lingua complessa ma straordinariamente articolata e quella è una grande opera di poesia la cucina è funzionata esattamente così c'è il couscous e c'è il pesce fermentato nello stesso posto in Sicilia colatura da lisci e couscous uno viene fuori dal medio oriente l'altro viene fuori dal nord Europa si fondano insieme anche nell'architettura nell'arte ecco sì la grandezza non è l'isolazionismo la grandezza è mettere insieme tutto e trarre fuori una sintesi quindi la cucina italiana è una sintesi bene e se ci sono altre domande da lasciate ragazzi io vi ascolto volentieri dato che si sta parlando ormai di tutto e abbiamo parlato degli argomenti più caldi se conosci franchino franchino il criminale sì sì avevo avuto anche uno scambio con quelli di Roma Roma affamata che era una ragazza simpaticissima che voleva venire a fare un video che ho proposto di farlo non sul quinto quarto ma sui tagli da macelleria che non sono più utilizzati come tagli nobili ora magari uno che si conosce tutti il diaframma è diventato ritornato in auge ma poi c'è tanta roba per esempio dalle scapole si tira fuori una serie di tagli che sono utilizzabili come cotture dirette alla griglia quindi volevo fare con lei una puntata sul non è il quinto quarto ma è qualche cosa che è scomparsa cioè diciamo è per un periodo in Italia ciò che non era bistecca e non era tagli da bollito veniva tritato in hamburger che Dio ce ne liberi per sempre da questa roba qua mamma mia e invece è ridare onore all'animale e ridargli la collocazione giusta e no di Franchino cosa ne pensi è stato qua la scorsa settimana l'ho trovato veramente adorabile però c'è un modo di fare forse molto vicino al tuo per alcune cose però parla ovviamente di street food quindi più che altro di panini sì lui è ha una maniera di fare molto aggressiva divertente gioca tanto sul dialetto che è molto esquisito da sentire e poi fa un lavoro rilevante secondo me che dovrebbe essere fatto anche a Firenze che è quello di ricatalogare un po' quelli che sono diventati gli oggetti fashion ristorativi del posto quindi riniziare a descriverli iniziare a dire sì ok tu vai di moda ma c'hai un trito di carne che hai comprato alla metro che costa 4 euro 80 IVA inclusa e dentro ci sono più ratti e carne ho capito te Babbo segui qualcuno su tiktok che ti affascina in ambito assolutamente no perché sono proprio io questa cosa Italia squisita la seguo su facebook perché quello mi piace fa degli articoli belli però io ecco questa cosa la prendo come lavoro vero e proprio io sono proprio come si dice in gergo tedesco orientato su questa cosa e quindi seguo pochissime persone e su tiktok nessuno nessuno nemmeno uno zero proprio proprio perché io lo uso solo per quello che ho detto come tutte le cose che faccio cerco di essere settoriale e cerco di avere come hai te Dario la tua community vera infatti secondo me è poi quella che serve è quella che ti capisce è quella che ti compielli è quella che ti sostiene di più su instagram e su tiktok che differenze notate tra questi due social con i vostri video la profondità di quello che puoi esprimere anche per la struttura che te puoi utilizzare cioè instagram si propone di fare approfondimenti un po' più strutturati come cosa invece tiktok è un si basa sulla velocità della comunicazione che a me non piace cioè io in 60 secondi non riesco nemmeno a dire ciao ho bisogno almeno di 5 minuti e poi soprattutto instagram diciamo che c'è dentro delle persone leggermente più professionali cioè io sono stato contattato sarà in macchina ieri l'altro con mamma sono stato contattato da uno dei più grandi finissatori di carne spagnoli bella navarro mi telefono un numero spagnolo e Fabrizio sono navarro cioè e oggi mi ha mandato un video con una simmental bella che chiariamo non è quella della scala ma è una delle carni di 50 esempio insomma la carne quella per antonomasia quella uno si immagina come carne le mucche c'hanno proprio disegnami una mucca un bambino ti fa la simmental è quella e mi ha mandato a far vedere questo lombo l'avevi selezionato per il nostro amico Fabrizio che io non conosco questa persona non ho mai vista però ecco ti fa mettere in contatto con delle persone che magari ti guardano e sanno capire lo scherzo sanno capire e sanno capire quello che in quel momento stai facendo e per me è veramente una gioia perché essere ripubblicato oppure essere commentato oppure essere contattato da uno che poi è il produttore della veillota di quella carne fatta con le ghiande cioè da uno così ti fa capire che ti garba vuol dire che stai facendo una cosa che funziona che si è ascoltato e quindi è bello voglio farvi una domanda un'ultima domanda so che faccio attendere un po' gli ascoltatori ma voglio farvi questa domanda che so che è un argomento che di sicuro vi divide l'unico probabilmente che vi divide in tutta la serata ovvero cosa ne pensate di salt by salt beat insomma a me personalmente influenza il giudizio della corte mi fa schifar cazzo non lo sopporto però voglio sentire anche la vostra su questo personaggio perché io qui vedendo i tuoi video è un frontman di un gruppo di investitori che hanno dato un taglio non legato tanto alla qualità ma legato alla rappresentazione della ricchezza è un taglio che la cucina turca sta dando in tante situazioni diverse quello c'è una paresi al viso infatti me l'hanno fatto notare io perché gli dico sempre quello di fare i sorrisoni invece mi hanno detto no c'è una paresi sto zitto allora è meglio ma non lo sapevi non lo sapevo ma poi non so anche cioè la mia risposta è stata sono una sega io cosa vuoi me ne freghi non è che mi do aumento sui che c'ha uno guardi il video e dico quello comunque e questa rappresentazione di ricchezza non corrisponde alla qualità e non corrisponde alla qualità del trattamento e principalmente c'è dentro due fatti uno è l'opulenza cioè il fatto di trattare la carne come se fosse un tramite rappresentativo della ricchezza quando invece la carne era un essere vivente che ha avuto una vita che va rispettato secondo me e va mangiata carne eccezionale e non troiai tutti i giorni cioè una carne di alto livello molto buona che sia per te significativa perché peraltro è una roba che quanto goduriosa è fa anche male simultaneamente quindi riede questo questo messaggio che lui mette insieme cioè in cui mette l'opulenza lo spreco perché fa delle preparazioni in cui spreca un monte di roba e l'altra parte è quella di mettere la ricchezza come se fosse un valore e non qualcosa che è collegato a un valore sei un grande imprenditore e sei ricco non sei ricco punto quelli sono i calciatori ma sono cose di una percentuale talmente piccola del mondo e sono ininfluenti e infine l'oggettificazione delle donne questo mi fa veramente questo mi manca anche a me e un paio di volte gli faceva mangiare la carne infilandogliela in bocca in una maniera che era chiaramente la simulazione di qualche cosa di sessuale e anche lo stare addosso alle donne a me queste cose messe insieme mi fanno pensare che questo personaggio sia un personaggio di basso livello e a quanto pare i giornali mi danno ragione perché adesso stanno iniziando a uscire articoli soprattutto con il discorso della coppa del mondo c'è scatenata una reazione no ma poi si scopre che rubano che ruba le mance ai camerieri cioè che se le rimette dentro in tasca è una cosa spreggevole veramente spreggevole che ha carni di livello basso che hanno trattamenti igienico-sanitari non adeguati cioè sta iniziando a venire fuori questa roba comunque Salt B in Inghilterra è stato aperto quasi sette minuti perché quando è aperto è fallito quasi istantaneamente come mai? è perché chi che ve lo vada a spendere quella roba là per mangiare una cosa e tu compri alla metro dai cioè scusami la foglia d'oro si trova tranquillamente insomma cioè su Amazon tu vai la S lunga ti compri una di quelle robe là ci metti le foglie d'oro sopra fai un troiaio di cottura come fa lui fa della roba a volte burri bruciati cose che non c'entrano non fa mai riposare la carne quando la toglie la taglia vengono fuori dei getti di liquidi poi se ne vanta fa guarda guarda come si spreme guarda quanto liquido ci ha detto vuol dire non tu la sa cuocere cioè una carne che ha riposato le proteine si sono riarrangiate e hanno recuperato i liquidi un cane armato non si ferma e non si salva nessuno ma io ma a fobia mi sembra che in realtà si siano salvate molte persone se vai a vedere la live a voi o se si sono salvate invece Babbo che ti piace la sua storia perché era un nuovo piano a parte si possono rivalutare anche personaggi no no tutto quello che ha detto Guido è palese quindi c'ho poco da aggiungere te sai benissimo che io sono fissato con le storie delle persone quindi io sapendo lui dal lavapiatti e essere arrivato lì e io come imprenditore dico che ha fatto un percorso e ci ha visto come quelli che commentano te lo sai benissimo Tommaso con le sue schiacciate eccetera eccetera dici l'antico vinaio certo così abbiamo parlato anche di lui no certo tutti sono lì pronti a commentare ma innanzitutto prendete e fatelo voi perché anche quello ci sta mettiti in gioco te prima di commentare gli altri io credo di averne mangiata una sola di schiacciatina però ammiro la sua intraprendenza però non stai parlando del livello di quello che hai mangiato no perché non fa per me cioè lui affascina il fatto di avercela fatta con un'idea un po' come la mollica essenza è lo stesso principio che io anche questo lo posso condividere quello è un po' diverso però te scindi queste due cose aspetta allora l'antico vinaio ha otto ristoranti otto locali in giro per il mondo il Donato ha una salumeria nella periferia di Napoli cioè un po' diversa come cosa certo certo credo che però il Donato non ambisca a fare lo chef capito ma quello non è uno chef quello è un ragazzotto in Italia ma non credo ambisca a fare quello ma tutti e due fanno la stessa cosa cioè l'antico vinaio ha una schiacciata allora intanto schiacciata e fuma vuol dire che non è pronta per essere mangiata perché è ancora bagnata ne banchiamo subito anche l'antico vinaio prima os poi gli alimenti sono rappresentazioni che un americano potrebbe avere degli alimenti fiorentini però tolto questo lui ha tre locali in via deneri tre provate a comprarvi una mattonella in via deneri cioè costano lì la roba 15-16 mila euro al metro quadro cioè non so se avete idea dei prezzi è la via una delle vie più frequentate del mondo cioè non d'Italia del mondo mamma mia e ha una densità impressionante lui ha gente ha gli steward perché ha una coda talmente grossa certo detto questo io come imprenditore non sono più che d'accordo sulla valutazione che fa lui però io ti faccio anche una valutazione tecnica su quello che ci sono gli alimenti su Salt Bee io la sua storia non so quanto sia veritiera però quello che so è che è un gruppo di investitori di cui lui è il frontman cioè è la rappresentazione visiva di questo gruppo di imprenditori che è stata creata a questo celebre macellaio turco che è stato il maestro di Salt Bee che è un uomo anfitrionico e molto vicino al regime turco in questo momento si si è molto vicino a Erdogan come personaggio e insieme a questi imprenditori che hanno foraggiato l'apertura quindi io io non sono un giornalista di inchiesta quindi non è che aggiungo altro però a me che per aprire un'azienda devo rompere i miei coglioni per avere un mutuo e prendere a testare un muro cioè l'idea che tutti questi soldi viaggiano da una parte all'altra con tutti quei fallimenti non so capito non so però ho dei dubbi interiori me ne vengono fuori ci sta sono dubbi legittimi secondo me va bene io direi di dar spazio agli ascoltatori che se vogliono possono intervenire fare le loro domande intavolare la loro discussione e chiedo ai moderatori di buttarli dentro in chiamata noi siamo qua apposta tanto mi vedete su discord già connesso credo se avete problemi fatemi sapere ma noi per sentirli bisogna mettere sì purtroppo adesso sì ti dovrei sentire un po' un po' in cuffio purtroppo mi cuffio mi cuffio e vabbè e io ci sta e ognuno colo sai esprime le proprie idee sai com'è succede sono andati tutti via ciao ciao ragazzi buonasera sono leox ciao leox ciao tesoro dimmi tutto allora intanto buonasera a tutti buonasera allora io ho tre domande da farvi la prima riguarda i social perché io ho fatto l'alberghiero come scuole superiori e mi sono perché avevo la passione della cucina ma mi sono ben reso conto che effettivamente quella per la cucina fosse solamente una passione e non mi ci vedevo poi come lavoro effettivo perché poi tra l'amare un qualcosa e renderlo poi il tuo lavoro c'è un abisso specialmente per il mondo della cucina che è un mondo molto faticoso e quanto effettivamente i social danno un'immagine fuorviante secondo voi di quello che poi è l'aspetto del mondo della ristorazione ok ok credo vi capisco ho fatto spostare loro quindi forse sono distratti voi avete sentito ok io ho capito benissimo ok perfetto non so se Guido vai vai te ma sui social non c'è una grande rappresentazione della ristorazione più una rappresentazione che è all'interno della comunicazione televisiva detto questo c'entra come il culo con le varantore la ristorazione è tutt'altra cosa no questa me la devi spiegare aspetta Guido cosa vuol dire questa osa vita questa diceva sempre la mia nonna c'entra come il culo con le varantore che non c'entra niente non con l'altro ma ok si effettivamente si può usare con tutto con tutto funziona con tutto ok è una rappresentazione che non è reale e che spesso i lavori non hanno rappresentazioni reali cioè se uno a un certo punto io nella mia vita all'inizio volevo fare il veterinario poi volevo fare il medico ma la rappresentazione di quello che io avevo in testa non corrisponde necessariamente cioè la strada che uno fa nella vita difficilmente corrisponde agli studi prima di tutto ma figurati poi al pensiero che uno ha tra i 13 e i 14 anni quando sceglie le superiori bene di te babbo vuoi raggiungere qualcosa sì 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 no no assolutamente la penso come Guido perché vivendo la ristorazione dal vero vedi che il social è proprio il niente cioè la ristorazione dal vero parte da un lavoro da un lavoro incessante che parte dal mercato dalla ricerca della materia prima dalla ricerca del collaboratore tutte cose che la gente non si può immaginare perché lo vede come un mondo fantastico che non esiste però fa anche parte della bellezza dello scoprire qualcosa di nuovo nel senso che non corrisponde alla tua immagine ma sia immensamente più grossa come cosa posso fare una domanda io collegandomi hai chiedere altro scusami Leox sì 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 Dario guarda ho due altre domande vai 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 prego prego poi dico la mia dopo vai pure scusami no la seconda sì quella che è direttamente a questo perché poi effettivamente ci sono programmi come Masterchef che fanno vedere che un filetto alla Wellington può essere preparato in mezz'ora per esempio ecco quanto effettivamente questo in realtà mina la credibilità del mondo della cucina beh se lo compri già fatto mezz'ora ce lo metti a scaldare allora secondo me Masterchef non mira la credibilità anzi dà una profondità interpretativa a quello che è il mondo della cucina diversa però la dà capciosa perché è una profondità interpretativa data da un programma un programma televisivo che deve rispondere agli audience al divertimento a quello che è il concetto di divertimento e poi tra l'altro non so se voi fate caso a questa cosa qua la televisione rispetto ai social che cambiano in continuazione è arretrata almeno di due anni quindi quello che loro pensano sia divertente per il pubblico ora lo era due anni fa quindi è addirittura paradossale da vedere assolutamente io la vedo come cioè vedete queste trasmissioni secondo me cercate di vederle come dovreste vedere un film cioè un aereo che si pianta in un muro e ci escono tutti vivi e così è la rappresentazione dei piatti fatti in queste trasmissioni o persone che si vogliano imetrisimare in questo tutto qua sì sono molto lontani perché poi i lavori hanno sempre una componente di studio di noia di difficoltà di fatica di sudore cioè qualsiasi lavoro fai ha una serie di composizioni cioè non è che andare dai commercialisti una volta a settimana sia questa botta di divertimento no no assolutamente però è necessario e lì ragioni con lui di numeri costruisci una strategia devi fare full cost ti dà una dimensione che non è quella cioè ecco io sai che li farei fare a mastership food cost certo assolutamente ti metti lì e tu mi fai un food cost una carta dei vini appunto capendo come venderli cosa inserirci dentro che prezzi richiedere questo sarebbe interessante assolutamente però non non farebbe share no quindi no sarebbe du pallet appunto quindi però è quello ci si sta allimare e se aggiungo quello e se levo questo e se questo lo metto lì e questo giochino qua fa poi l'attività economica assolutamente perché noi abbiamo visto tante volte e questo che magari te meglio di me lo sai perché insegni e fai questo abbiamo visto tante volte che basta cambiare un nome sul menu e che un piatto da zero fa dieci te lo ricordo quando la pasta artigianale iniziò a diventare importante c'era su tutti i menu felicetti 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 e le vendevano a Iosa perché diversificava il prodotto certo sì 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 no 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 c'è uno studio tante volte va fatto bisogna fermarsi io tante volte vado al ristorante chiuso per cercare i difetti per cercare gli sbagli per cercare quello che non va tante volte i miei ragazzi lo sanno addio è laggiù al ristorante da sé studierà qualcosa hanno paura di come torni hanno paura del giorno dopo bene proprio perché mi piace così c'è la terza domanda oppure sì sì molto rapidamente volevo chiedervi che cosa si prova ad avere insomma di fronte a voi un ragazzo che ha anche un po' rivoluzionato quello che è il mondo della cucina cioè Dario io è una delle ricette che poi è diventata la ricetta più famosa del web del mondo del web cioè gli gnocchi all'olio ma vattene affanculo vai ma se verranno anche mai proposti al VGG ma su cammi la minchia dai vai vai ciao leo grazie leo ciao io vi voglio fare una domanda prima del prossimo ascoltatore ovvero se dato che hai detto bisognerebbe fare una parentesi a Masterchef dei food cost sarebbe molto interessante anche mettere in guardia i futuri chef o i futuri proprietari di un ristorante sui camerieri perché è una battaglia continua per esempio no io ho sentito storie sui camerieri da mio padre abbastanza interessanti no no assolutamente ho vissute anche sulla mia pelle alcune no vabbè ci sono cuore con cucina e sala c'è una rivalità epica da tanti anni ci sono a certe volte delle persone tanto brave e tante pazze e quindi la gestione è difficile tante volte abbiamo avuto dei ricordi simpatici diciamo io allora vi racconto una cosa una volta ho fatto una prova con dei camerieri allora questo ristorante si stava facendo la selezione personale e sono venuti quattro nuovi camerieri a provare il tutto e allora prima pranzano e cenano insieme verso le sei cinque e mezzo poi iniziano a settare la sala con gli altri erano un po' più bravi ma non pensate che sai che a un certo punto io verso le dieci e mezzo quando iniziano a scemare le persone io ho questa cosa ve l'avevo raccontata prima la fissazione con numeri conto questi erano sette non erano otto e io scusate ma e mi manca una cameriera questa era rimasta chiusa nel bagno dei disabili alle cinque e mezzo e stava lì e faceva aiuto aiuto ma non è che cioè bastava girare la manovella non è che era rotta la porta è che non era la porta così quella che andava girata e lei era lì è stata lì e quando ha aperto è scattata la luce cioè lei stava ferma al buio e la cosa bella è che mi ha detto ma com'è andata la prova ti sei persa in un ristrante di 120 metri quadrati e ti sei usata in un cesso e ci sei stata a sei ore assunta non lo so va bene prossimo ascoltatore bello aneddoto comunque fino a questo punto non mi ha sentito sinceramente qualcuno non si può raccontare no qualcuno non si può raccontare Dario buonasera 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 a te certo buonasera Pignaway ciao Pignaway come stai ciao vabbè innanzitutto ciao Guido Fabrizio e Dario ciao io volevo portarvi un attimo la mia esperienza diciamo io vivo proprio di prima persona il fatto che i miei hanno un albergo e un ristorante proprio la mia famiglia in generale ha un albergo e un ristorante ma con gli anni anche crescendo provando comunque dando una mano mi sono preso conto che non sarà credo che non sarà proprio la mia strada però vivo tutti i giorni come se fossero diciamo arrabbiati per questa mia scelta e sembra che non gli vada giù oppure sembra che non questa cosa non insomma vedo che comunque ci soffrono una sorta una sorta di muro tra anche perché il titolare del posto è mio zio e ormai si è creato un po' non dico uno scontro però vedo che comunque perché io dovrò prendere una decisione ovviamente anche perché ormai sono maggiorenne e una parte della società ce l'ho e dovrei non so tra quanto ma comunque dovrò prendere una decisione anche comunque se vorrò andare a fare un'università eccetera però io vedo che non anche da parte di altri parenti della famiglia che sono parte della società non insomma non ho capito la situazione io dico la mia dopo intanto lascio la parola a loro io ti posso raccontare questa cosa che forse non ho mai raccontato e la racconto oggi e così ti puoi chiarificare un po' tutta questa cosa allora Dario mio figlio non è mai stato interessato fisicamente ai nostri locali al nostro lavoro eccetera eccetera però è stato sempre presente ok è stato sempre presente con una parola con un un aiuto morale è stato sempre sempre presente e poi quando è arrivato a poter far anche qualcosa per noi lo ha fatto anche se non era lì anche se non ha fatto fisicamente un piatto o è andato al tavolino a portare un piatto ha fatto qualcosa anche se l'ho fatto all'inizio inizio il cameriere con scarsi risultati però quindi il mio consiglio fra virgolette mettendomi naturalmente contro tu zio tuo padre e tutto il resto è di fare quello che ti senti perché assolutamente devi fare quello che ti senti perché saresti una persona non felice a non fare quello che ti senti e poi eventualmente se puoi essere presente anche di sostegno moralmente qualche volta fisicamente per non far sentire loro soli vedrai che tutto poi tornerà secondo me certo io comunque do una mano cioè quando ho da dare una mano io ci sono sempre anche durante il Natale la Pasqua al Capodanno ho sempre dato una mano anche l'estate mi do la mia disponibilità però pensare a un futuro proprio nell'albergo non non ce la faccio insomma non non credo che sarà questo insomma però sento proprio il peso di loro addosso insomma questo ma scusami vabbè intanto lascio la parola a Guido se vuole dire la sua io su questo sono molto isolazionista secondo me la prima cosa da fare in una vita è essere felici di quello che si fa se non sei felice fai qualcosa contro voglia a me per esempio mi vengano fuori tutti i calli sulle mani vengano fuori i forri cioè io proprio immediatamente ho qualche cosa di psicofisico che mi sta dando un segnale per me la vita va condotta facendo quello che ti garba e riversando la parte dei tuoi interessi nel costruirti l'attività lavorativa che ti piace visto che il lavoro è se ti casca bene il 60-70% della vita altrimenti anche molto di più cioè io per esempio non ho hobby io lavoro e basta a me mi piace perché ne ho tanti e mi diverto in maniera continuativa quindi non posso un po' altro auspicarmi e tu trovi una strada che ti garbi quanto mi garba la mia e che magari non sarà all'albergo magari a un certo punto fra 20 anni ci tornerai con la testa e con il cuore io se posso dirti la mia sono d'accordo con Guido cioè io lo farei contro voglia e probabilmente tutti i sacrifici che hanno fatto i miei nel corso degli anni verrebbero buttati al vento in pochissimi mesi perché quando uno non fa una cosa contro voglia deve dare delle direttive a tanti dipendenti deve direzionare un'azienda così grossa dove comunque devi rispondere al pubblico a un pubblico esigente peraltro e non hai voglia di farlo chiaramente poi le persone lo percepiscono le persone lo notano e quindi non farai mai un buon lavoro e quindi probabilmente con tutti gli anni di carriera di lavoro di impegno da parte dei miei genitori verrebbero vaporizzati da una persona che è totalmente incompetente in quello che fa io non avrei nemmeno voglia di ripartire da zero e documentarmi su tutto quello su cui si sono documentati i miei genitori per fare il lavoro che fanno perché io mi sono documentato ho studiato per fare un'altra cosa però vedremo vedremo il futuro è ancora lontano a te è arrivato subito però questo futuro a 18 anni è una bella responsabilità per una persona così giovane ma te ne hai parlato con loro in maniera aperta ma hai detto di sì all'incirca no? sì ne ho parlato vabbè a parte che volevo precisare mio padre non c'entra con l'attività ma è tutto rivolto da parte di mia madre tuo zio tuo zio ah tuo zio ok tua madre che mio zio è il fratello di mia madre sì siamo intuito io proprio sono diventato parte della società ancora tempo fa però ufficialmente recentemente proprio quando ho compiuto la maggior età perché è venuto a mancare mia mamma e sono diventato subito parte della società insomma ok ho sentito subito il peso addosso quando ho saputo quello che si è creato insomma perché comunque ero più piccolo non sapevo bene come cosa poteva succedere insomma e adesso che sono più grande che mi hanno spiegato e tutto insomma ho capito che comunque è una è una è una grossa responsabilità ovviamente ok e basta questo insomma mi dispiace perché te nel giro di poco hai dovuto insomma elaborare il lutto e poi ricevere anche questa patata bollente molto molto grande io quello che ti posso consigliare dato che sei molto giovane e che il tuo corpo e la tua mente è ancora parecchio malleabile plasmabile fa l'università o fa l'università oppure semplicemente vedi come riesci ad adattarti a questa nuova situazione e se magari riesci ad adattarti bene non a fartelo piacere ma riesci anche ad appassionarti contro ogni previsione magari insomma sei sei stato anche un po' benedetto della fortuna se invece vedi che proprio non ti incastri in questo processo devi trovare il modo di andare da un'altra parte mantenendo magari i buoni rapporti con la tua famiglia certo questo è quello che ti posso dire però sei talmente tanto cioè io a 18 anni se mi paragona a quello che sono oggi non avrei immaginato nemmeno minima ora è chiaro un lavoro completamente diverso però non mi sarei mai immaginato tutto questo quindi magari quello che sarai fra 30 anni è una persona totalmente diversa da quella che sei ora magari queste esperienze ti scolpiranno ti faranno diventare anche un grand'uomo però lo vedremo solo col tempo capito tenuti a scoraggiare so che è difficile è retorica però è quello che posso dirti non conoscendoti non conoscendo tutta la situazione certo va buono va bene ti agono un grosso bocca al lupo forza grazie mille gentilissimi buona serata un abbraccione grazie anche per il sostegno ho letto un po' nel mentre grazie veramente bene buona serata ciao 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 ok prossimo intervento che storia assurda questo ragazzo è veramente veramente tosta buonasera a tutti herpes vero sono io ciao ciao Guido ciao Fabrizione ciao allora buonasera io volevo riuscire a fare due domande la prima è qualcosa di cui si parla da ormai diverso tempo mentre la seconda è un argomento che ha avuto una risonanza mediatica un pochino più grossa nell'ultimo periodo ok allora la prima è qualcosa di cui avete già parlato prima avete accennato quindi i vari canali che si occupano di questo food porn tra virgolette io non volevo chiedere cosa ne pensate ma da voi che militate lavorate con i social e quindi la comunicazione della gastronomia su questi ambienti secondo voi qual è l'elemento che intrattiene così tante le persone a guardare questi video di gente che fa panini e strabordano di salse di formaggi e altro che personalmente non credo avvicinino le persone alla gastronomia e non mettono nemmeno tanto appetito ok andiamo con la prima intanto a parte che ho notato e a parte questi primi due interventi full toscana questa live proprio ci facciamo poco sopportare dalle altre regioni però ecco vi lascio la parola prego vai Guido secondo me non sono non trattano il tema alimentare il food porn tratta due temi due o tre temi diversi che sono uno è quello della gara della sfida riesce a mangiare questo chilo di carbonara allora è gratis riesce a mangiare questo panino gigante allora è gratis e questo è uno dei temi l'altro è l'esagerazione cioè come se il piacere la felicità come succedeva negli anni post bellici il mangiare tanto fosse simbolo di felicità e di star bene quindi è un veramente una visione estremamente gretta della realtà e completamente fuori da tutto quello che è il discorso alimentare cioè una delle cose a me mi ha stupito profondamente di tiktok è che del discorso alimentare tipo ridurre gli sprechi la stagionalità non utilizzare la plastica c'è roba che si portava avanti da boh vent'anni quindici anni di discorsi roba che ormai era considerata vecchia rivecchia non c'era dentro il food porn è veramente la rappresentazione di questo un'idea passata che ha poco a che vedere con la cucina è collegata ad altro quindi è anche difficile da interpretare dal punto di vista alimentare cioè c'è della roba che è veramente disgustosa non posso descriverla in altra maniera e che non ha canoni alimentari assolutamente ma poi soprattutto credo che anche il ragazzo Herpes mi pare facesse riferimento anche a a queste persone come si diceva prima che vengono seguite eccetera eccetera queste persone non vanno lì per mangiare un panino questo non vanno lì per mangiare una schiacciatina ma vanno lì per farsi una storia per farsi un selfie per cercare di rientrare in un giro e acquistare dei visibilità e like ma poi ci vanno secondo te perché io ogni tanto mi metto mi soffermo a vedere se io fossi un'azienda e facessi reclamizzare a te la mia carne la prima cosa che farai è guardare quanti follower hai quante interazioni hai e quanti commenti hai e che tipo di commenti hai se te apri uno di questi canali di food porn cioè il 95% dei commenti sono o offese o prese per il culo o che schifo io non farei mai reclamizzare la mia azienda da una roba che mi porta questo shit shit store si addosso incredibile come cosa e poi i tratti che stai reclamizzando non sono tratti di qualità sono tratti di di un'azienda in agonia è come quando vai in un ristorante e trovi i tristi primi i tristi primi tu sei già lì e gli dici fra quanto aiuti nel senso sei già là come quando trovavi la pasta alla moscovita o la pasta al salmone affuminato che vedevi che era una situazione che era al collasso come cosa cioè queste queste cose non sono prestigio sono distruzione di un posto ma si vede anche chiaramente poi da quello che viene scritto sopra ok se mi parli capire da una parte vedete questo tipo di attività come una vetrina per pubblicizzarsi in maniera però in negativo esagerata e negativa la parte che mi più interessava era il concetto di abbondanza che comunque magari nelle persone richiama un sentimento quasi primitivo di benessere perché vedono il tanto l'esagerazione quindi per quello sono un po' come le falene sulla luce attirate da questi contenuti c'è una cosa che è collegata al desiderio di cibo poi insomma dipende anche molto dal taglio delle persone io per esempio quando vado a fare la spesa mi si chiude lo stomaco perché a me vede tanta roba da mangiare mi fa passare la fame come quando vado in un grande magazzino in un centro commerciale molte volte io esco senza comprare nemmeno quello che ero andato a comprare perché tutta questa abbondanza di roba mi frastorna e mi dà fastidio non l'avevo mai sentita questa sinceramente la prima volta invece cosa ne pensi del fenomeno scusa se ti interrompo Erpes cosa ne pensi del fenomeno dei mukbang cioè le persone anche quei video spesso li fanno i coreani che si mettono avanti centomila cose e iniziano a masticare nel microfono e vengono seguiti è una cosa collegata al suono che fanno non all'azione in sé è una cosa veramente disgustosa estremamente pericolosa da fare estremamente ci sta ci sta no rido perché la mia moglie ci è fissata la scorta sempre per andare a dormire io per esempio come si chiamano ASMR sì io li devo bloccare perché mi danno un fastidio così forte che non voglio scrivergli delle cose poverini cioè tra niente però mi verrebbe da scrivergli delle cose terribili perché mi danno proprio un senso di agitazione e di fastidio li devo sempre bloccare lì c'è più che altro c'è anche un po' di componente sessuale non in tutti gli ASMR ma in alcuni sì sì non l'ho colta di solito mi garba il sesso là proprio cioè no ok e secondo ecco invece la questione dello sprechi perché nei mukbang secondo me un po' di sprechi ci sono perché tutta quella roba lì che fa appunto poi pomodirà eh sì boh o stanno a digiuno ma che cioè se mangi se bevi un litro e mezzo d'acqua di fila e tu finisci all'ospedale eh cioè nel senso nello stomaco ha una quantità data figurati una ragazzina coreana e peserà vestita 32 chili che si mangia 18 uova cioè deve vomitare se no questa la porta la fa una lavanda gastria nel giro di 20 minuti come il coso spray alimentari ci ho fatto un video sopra c'è una fetta della popolazione molto significativa che non ha accesso né all'acqua né al cibo ora io di questo non è che ne voglio fare mangia perché se no il bambino africano non mangia queste sono cose ridicole però devi stillare dentro di noi un rispetto al consumo sia dell'acqua che degli alimenti e scartare buttare è una cosa che fa parte di un'altra di un'altra epoca cioè se ci pensi un po' come la domanda a cui risponde l'affermazione produco carne sintetica perché uno produce carne sintetica perché gli americani consumano 170 kg pro capite di carne all'anno quindi per continuare un consumo inquinando tra l'altro un botto certo continuare più quella di maiale e quella di pollo solo di carne rossa per continuare su questo consumo bisogna produrre della carne sintetica ma è la domanda sbagliata non è la risposta ma perché in America dici che non c'è educazione alimentare da quel punto di vista poca molto poca e c'è anche una sbagliata soprattutto sì c'è anche una scissione fra il momento del cibo che è per noi anche il momento del convivio del ricongiungimento della tranquillità della famiglia anche dell'amicizia basti pensare che la parola probabilmente è nata durante il convivio del cibo quindi le prime tentativi di comunicazione lì invece si scinde diventa un doversi alimentare quindi un nutrizio un nutrizio cioè proprio un taglio completamente diverso ok Herpes volevi aggiungere qualcosa mi pare sì voglio fare una seconda domanda che in realtà indirettamente introdotto Guido anticipandomi ovvero la carne sintetica ma nello specifico volevo sapere cosa ne pensavate di questa campagna quasi di ostracizzazione nei confronti dell'arne sintetica che stava fatta in Italia e poi parallelamente anche alle varie farine a base di insetti eh quando lo volevo chiedi io bravo bravo bravissimo voi da esperti di ciccia perché comunque è chiaro cosa ne pensate levando ovviamente tutto il discorso è introdotto sull'enorme richiesta americana o di altri paesi ecco rimaniamo in Italia in Italia non credo che ci sia questo tipo di problema ma soprattutto eh eh io personalmente eh ho anche firmato contro eh perché sono contro ma solo perché ehm eh lo vedo più uno sfruttamento industriale che è una necessità però è una mia idea eh poi quello che eh è la salute o questo eh o questo campo non è una cosa che riguarda me perché io non sono preparato in questo e quindi non saprei se è anche una cosa nociva oppure no credo di no perché eh ci sono tante cose sintetiche che purtroppo dobbiamo ingerire e quindi non credo che abbiano fatto una cosa che sia nociva per la salute però ecco io non ne vedo la necessità almeno per il nostro paese ecco poi mi posso sbagliare allora ci sono due tipi di quella che è chiamata carne sintetica però forse in maniera un po' eronea perché non è propriamente carne quella di cui stiamo parlando allora un tipo è quella che viene stampata cioè vengono prese delle proteine di solito vegetali e viene stampata stampata con una stampante 3d e è una roba anche interessante perché produce un alimento ad alto contenuto proteico partendo da proteine che possono essere di solito o di insetti o vegetale l'altra invece è quella che viene fatta attraverso la riproduzione con cellule totopotenti all'interno di particolari laboratori che utilizzano queste strategie per ricreare dei tessuti questi tessuti sono secondo me in maniera molto eronea avvicinati al concetto di carne perché la carne è tutt'altra cosa quelli sono degli alimenti proteici che hanno un taglio ben preciso che non sono avvicinabili all'idea di farsi una bistecca o un pollo sono alimenti proteici come ce ne sono di tanti altri tipi diversi strutturati e bilanciati quindi è una nomenclatura secondo te che allontana un po' il consumatore costruita ad hoc poi che a me per quello che interessa a me e quello che interessa come sviluppo industriale del paese secondo me sono due cose diverse però perdersi l'opportunità di sviluppare qualche cosa che può essere interessante per il futuro per me è sempre un errore poi io personalmente dall'altro giorno ho assaggiato gli insetti per l'ennesima volta ci costruirò un'iniziativa intorno li ho mangiati nei viaggi che ho fatto all'estero nella mia vita numerose volte non credo che sia un alimento così interessante dal punto di vista di gusto di struttura però sicuramente quando si è mangiato l'altro giorno con il mio figliolo uno scorpione ci siamo divertiti quando abbiamo mangiato i bachi è stata una cosa divertente quando abbiamo tirato fuori le cavallette insomma tutta questa roba qua era divertente però non era una cosa che mi ha dato questa soddisfazione alimentare così grande per questo visto che a me non mi è piaciuto così tanto non deve essere prodotta in Italia lo penso un errore perché magari a qualcun altro interessa uno rea un mercato come costruzione io sono per sviluppare l'industria in maniera continuativa poi peraltro gli insetti noi li mangiamo tanto anche sotto altre forme o per esempio quella più classica di tutte è che il vino senza insetti non si farebbe e il vino è il settore alimentare più grosso di sviluppo italiano cioè è più grosso il vino di tutti gli alimenti esportati boia e mia di poco e anche la cosa che mi ha colpito in un tuo video le caramelle gommose gli orzetti vengono colorati con dei coloranti basati su alcuni sono sintetici quelli naturali sono quelli basati sugli insetti ok quindi li mangiamo già da un po' gli insetti li diamo anche ai bambini ok lo yogurtino quello della Danone con la strisciata rossa che quando lo mangi è leggero e quelli lì sono probabilmente difende che colorante c'è scritto comunità europea su questo è estremamente rigida se te vai in America c'è scritto un cazzo sui prodotti c'è scritto compri il pesce c'è scritto pesce cioè in comunità europea ci deve essere tutto quello che c'è dentro la provenienza origine tutto sì e particolarmente la filiera per noi la rottura di palle se uno può rimarcare qualche cosa fa un panino che ci mette un'etichetta devi rifare il lotto è un casino come cosa quindi per noi è una cosa molto rigida io non la trovo strana io sono sempre stato curioso di tutto cioè assaggiato tutto quello che mi capitava qualche cosa mi è piaciuto qualcosa non mi è piaciuto assolutamente però non hai capito il mio secondo me appunto come si diceva prima è un investimento industriale che ora sta partendo che andrà per la sua strada ma che secondo me avrà anche un futuro giusto ecco diciamo io credo che si rifaccia semmai a una domanda che è sbagliata come cosa tutto qua che poi si trovi altre applicazioni può darsi ok Erpessone sì grazie mille anche per la risposta mi sento molto vicino comunque a quello che ha detto Guido è super interessante anche spiegare la differenza appunto tra sintetico che poi è coltivato non sintetico è coltivato è coltivato sì 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 no così almeno aggiustiamo la nomenclatura e nessuno ci rompe i coglioni coltivato bene ciao Erpess grazie di cuore ciao ciao buona serata prego ci dovrebbero essere altri due interventi credo comunque siamo in bolla mancano una decena di minuti prego non dovrebbe essere anche un VIP un intervento di VIP no scherzo vabbè comunque di un amico di un amico no no chi è oh dio Marco ciao Marco benvenuto buonasera ciao ciao Marco grazie buonasera ciao la mia domanda era più legata sul discorso della della comunicazione e io seguo il il more praticamente dagli inizi tra l'altro ci siamo sentiti anche su Instagram per la cottura della radio sovietica è questo microfono Marco poi è incredibile è una radio sovietica questo questo microfono incredibile dopo quello aspettate aspettate no no se puoi aggiustare bene se no non ti preoccupare se va avanti così ci mancherebbe meglio così boia completamente prego prego vai vai ok no dicevo io seguo il more fin dall'inizio praticamente li avevo scritto pure su Instagram e ho massimo rispetto perché sono andato anche a informarmi sulla persona prima che diciamo venisse anche più conosciuta tramite i suoi TikTok e la domanda appunto legata all'ambito della comunicazione perché anche per la stessa missione e anche per diletto il more ha avuto un approccio molto cioè è andato molto bene a livello virale che però era molto aggressivo molto catchy e che ora diciamo il cerchio si chiude vedendo anche come è la persona perché è un toscano è divertente fa morire risate quindi ci sta assolutamente però io leggendo i commenti quella e vedendo ho avuto l'impressione che certe volte forse il modo di comunicare può aver cannibalizzato un pochino il messaggio vedendo le reazioni della gente soprattutto su TikTok che vuoi dire la sincera verità cosa che invece non vedo mai succedere su Via di Guinceri perché là si vede un modo di comunicare più neutro più di passione più tranquillo che viene sempre preso più o meno come viene dato tranne per i manichini mi chiedevo quindi se alla luce diciamo del successo comunque della viralità che ormai è scemata se potessi tornare indietro cambieresti i tuoi toni oppure rimarresti sulla stessa onda perché come dicevi prima questo sono io a me piace fare le cose così e alla fine sono arrivato a chi voleva arrivare Megoglioni che intervento che cappellone vai vai prego sì la risposta è sì sì cioè nel senso che nel senso che per me è un balocco cioè una cosa con cui io gioco non non è una fonte di guadagno non è una fonte di struttura delle mie aziende io la uso per divertirmi e per comunicare delle cose cioè se io leggo l'articolo sulla macchina graffitata nel comune dell'impruneta di uno della casa del popolo e ci faccio un post sopra cioè io non ho per questo reticenza per poi attaccarci dietro una roba di chimica e prima stavo prendendo in giro un tizio che brucia la carne è una roba che io faccio senza freni e dentro il senza freni a parte cercare di non dire troppe parolacce e non bestemmiare così c'è all'inizio che cosa che mi costa una certa difficoltà però non ci metto dentro non cambierei mai quello che faccio e che dico vorrei essere più santo e più capace di non arrabbiarmi ma non sono fatto così però pensi che il messaggio comunque di questo ne giovi o meno oppure certo se fossi più flemmatico ne gioverebbe ma non sono fatto così quindi fa parte della mia della mia natura sono una persona appassionata appassionale e molto focosa in quello che fa quindi mi snaturerei se provassi a fare un'altra cosa poi se vado a fare un intervento al al congresso di farmacologia mi metto un giacca e cravatta utilizzerò dei toni scelti per quella chiave di situazione ma essendo questa un'estroflessione del mio pensiero aggetto non del mio pensiero di riflessione cioè non si sta parlando di un libro o di un articolo scientifico io lì dentro riverso quello che mi capita in quel momento sì ma secondo me è Marco non si chiama questo ragazzo secondo me Marco poi c'è anche una chiave di lettura delle cose perché anche tante volte io sono andato a vedere per esempio cosa ne pensava il Mori su questa cosa che magari avevo bisogno di una conferma ma anche se il video era fatto o in duetto o cazzaro o di qui ci ho preso il messaggio cioè tutte le cose bisogna vedere come riesci a assorbirle come ti ci approccio perché perché bisogna essere poco seri per dare serietà capito cosa ti voglio dire non so se mi sono spiegato è tutto lì perché forse facendo il perbenino magari avresti anche meno consenso e forse saresti anche meno seguito e forse sì potresti dare meno messaggi credo secondo me sì la provocazione è alla base guardate lo dico anche io che comunico sempre provocando molto spesso non semprissimo però mi capita molto spesso ed è molto bello perché la maggior parte delle volte è una reazione una discussione c'è chi capisce chi non capisce però secondo me è comunque intrattenente comunque interessante capito Marcone? sì 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 no sono comunque d'accordo volevo dire un'ultima cosa in chiusura volevo dare torto a chi ha fatto un intervento poco fa che secondo me un grande pezzo di storia culinaria sono state le ultime orecchiette mischiate a freddo con il pesto di sottomarca per me però scaldata però c'è un grande pubblico che segue in cuscina con Nanni qui allo studio ora è anche sponsorizzata questa grande attività quindi ringraziamo Lofresh che ci punto escapitivo Lofresh che ci dà sempre sostegno in questo grazie tesoro grazie Marco ciao a proposito di in cuscina con Nanni mi sa che c'è uno degli ultimi interventi sì perché siamo in chiusura che mi sa che è proprio quello di Nanni credo 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 che ci sia anche Nanni in attesa vediamo un po' se è vero però non lo so non lo so se è battato a buca credo di no eccolo ciao ciao bimbi ciao Nanni Pieri ciao bimbi ciao ciao buonasera ciao buonasera ciao guido è piacere Fabrizio Lonosco purtroppo ciao Mario anche ciao ho due domande per voi la prima forse è più per guido però magari conosce anche Fabri perché siccome io piccolo piccola premessa ora sono uno streamer come Dario là davanti a voi però è stato otto anni in cucina sì io ho fatto otto anni di cucina in totale nella mia vita in Italia Austria Australia e basta e dove stava al posto peggiore Austria Australia in Italia in Italia quindi se stava un trentino scusa scappare no no purtroppo il litorale toscano il litorale la penso ragazzi è una roba barazzata è una bella che fa ancora male e volevo chiedere una cosa è stato è sempre stato uno dei miei diciamo delle mie ispirazioni ma non tanto per la cucina pratica ma quanto più quella filosofica la buonanima di Fabio Picchi che è ex proprietario c'è più però ex proprietario del Cibreo del Cibreino a Firenze volevo siccome io abbraccio completamente la sua filosofia il suo modo di vedere insomma quello che era il suo modo di vedere le cose o tutti i libri eccetera volevo sapere cosa ne pensavate voi due se ovviamente non è quello di Masterchef quindi era una persona e è perché ha lasciato un segno importante e quindi grandissima persona amante del suo lavoro della materia prima amante della sua città amante della Toscana cosa dire di più grande tutto qua la mia la mia versione è capciosa sono stato all'asilo con la sua figliola con la Giuditta conosco bene quando c'era il suo figliolo era un tappettino mi ricordo a Pelli Rossi ora che l'ho rivista al ristorante con i suoi figli mi ha fatto anche ridere tutte le volte lo vedo lo guardo sempre mi dire tappettino a Pelli Rossi invece adesso diventava un uomo ci sono stato tanto in quel ristorante lo conosco bene e ha avuto delle cose alcune cose molto interessanti altre si sono un po' incancrenite gli sviluppi che c'erano sulla macelleria la panetteria fatta con Joshua uno sticazzo di panettieri veramente bravo e la parte che riguardava i formaggi dentro il mercato di Sant'Ambrogio a me sono piaciute tanto devo dire meno mi è piaciuta l'esperienza del Cibio che mi sembrava un'esperienza un po' più di nicchia come cosa e il Cibreo secondo me nel periodo finale era si era orientato verso un pubblico estremamente di nicchia e aveva perso alcune caratteristiche però tutto sommato è sempre stato uno dei ristoratori di riferimento di Firenze e poi più che altro una persona emblematica cioè che con la sua presenza dava un peso a quello che succedeva e una interpretazione cioè era anche il punto di riferimento di una tutta una di una questione politica di una discussione era una persona che si acculturava gli interessava studiare e con la sua maniera di fare che era quella io me lo ricordo quando buttava fuori la gente perché gli aveva la bistecca troppo cotta era uno che insomma aveva una bella una bella verve come cose e era a tratti simpatio a tratti rompi coglioni ma sai io l'ho conosciuto per talmente tanti anni che la mia visione è la visione di una persona che è sempre stata un riferimento un punto di vista culinario nella mia crescita culturale lo conosco da quando ero piccolissimo quindi non posso dare un giudizio per il proprio come cosa ok e ciao se c'è tempo un'altra domanda un po' più generica visto che comunque io ho frequentato non tutto il mondo però sicuramente in Italia e comunque appunto Austria e Australia proprio in settori diversi sia partito da lavapiatti ho fatto il comì ho fatto non lo so il sous chef il di tutto veramente e volevo chiedervi una cosa nella la ristorazione italiana che credo che a questo punto sia veramente qualcosa di improponibile a livello di paga orari di lavoro contratti che non esistono io stesso quando lavoro in Italia aspettai tipo mesi e mesi per un contratto in piena stagione nonostante avessi dato la disponibilità tutti i giorni per ristoratori che cambiano gli accordi nel mentre eccetera voi qual è il vostro pensiero generale sulla ristorazione in Italia e se pensate possa esserci un no non una soluzione chiaramente estremamente pratica però magari anche morale o etica che voi stessi applicate no ti dico quello che facciamo noi così diciamo che è in diretta tutti mi possono smentire o o no specialmente Cristina che è la titolare che è la proprietà di Via di Guinceri non che mia moglie e ha sempre tenuto prima ai collaboratori che a lei stessa quindi ha preferito non lavorare lei per far lavorare i suoi collaboratori anche nei momenti più duri che abbiamo avuto di Via di Guinceri e ce ne è stati ha sempre tenuto a dare due giorni di riposo a tutti i ragazzi che ha e qualcuno ne fa anche due e mezzo tre spezzettati e due interi ha sempre tenuto anche chi è venuto a fare delle prove a pagarle sotto contratto ha sempre tenuto anche al l'ultimo lavapiatti è entrato che fosse il primo abbiamo avuto tanti ragazzi musulmani che hanno avuto il suo cibo ha fatto per loro tutto doveva essere così perché una brigata infatti se apri il nostro menu se apri il nostro menu la prima pagina è dedicata a tutti i nomi delle persone che lavorano con noi perché secondo noi noi senza i nostri collaboratori non siamo niente poi contratti regolari tutto regolare quindi meglio di così però è ineluttabile dire in Italia sì 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 non è proprio andata il motivo per cui il turismo il turismo in generale ha un momento di enorme difficoltà di recepire della forza lavoro è collegato a due semplici cose paghe estremamente basse e orari che sforavano in maniera clamorosa il contratto di lavoro queste due cose hanno creato una grande problematica dentro il settore del turismo io tutte le volte che faccio consulenza a un ristorante glielo spiego sempre come è molto semplice risolverlo farli lavorare a una quantità di ore eque e pagali la cifra giusta se vuoi tenerti il personale la devi pagare bene se vuoi tenerti uno chef e dargli 1200 euro al mese cioè col cavolo appena trova una cosa 1250 va a quell'altra parte se ti vuoi tenere il personale formarlo tenerlo dentro devi pagare la cifra giusta chiaramente ora lo stanno iniziando a capire però questi messaggi ogni tanto si leggano l'imprenditore di Stohausen che scrive io non posso tenere aperto il ristorante perché? perché non trovi uno da schiavizzare certo che non lo puoi tenere aperto ma ti dovrebbero prendere a clavate sui capo e poi c'è un'altra oggi ho sentito una prova a fare te l'imprenditore ma te la mia ha ordinato il dottore nel senso se non lo vuoi fare fa un altro lavoro non è questo e quindi la questione del lavoro e della paga è chiaramente fondamentale ma sono scappati tutti dall'Italia perché non c'era versi di lavorare a un ritmo normale e con una paga normale benissimo credo che abbiamo grazie anche all'ultimo dimmi scusate una sola cosa che poi magari non si può fare però è una piccolezza che magari a cui tenevo abbastanza che era da parte perché Dario ha già fatto è anche un po' suo proprio per Fabrizio e Guido se possono e Dario li farà vedere come replicare il live quello che ha detto un po' il logo il simbolo del canale di Dario ma un po' di tutto il nostro gruppo di amici eccetera che sarebbe il per forza quindi una X con le mani Nanni buonanotte grazie mille di essere intervenuto su Radio Tomodachi veramente buonanotte buonanotte inoltre cosa ti ho detto sta per arrivare una cazzata ma poi non è diventato il simbolo di niente vabbè comunque andiamo avanti però lo stai facendo bene sì poi bisogna fare così per forza esatto vediamo come lo fai perché non t'avamo inquadrato per forza bravissimo beh hai visto così sei contento Nanni comunque io sono molto felice perché abbiamo toccato tutti gli argomenti possibili immaginabili addirittura siamo arrivati ai dipendenti i contratti le ore lavorative e tutto è stato un piacere avervi qui è stata una puntata molto molto bella grazie anche a tutti quelli che sono intervenuti vi ricordo ragazzi che potete intervenire su ogni argomento basta essere abbonati ogni venerdì alle 19 proviniamo sul mio discord appunto scannativo discord e vi provineranno i mod che ringrazio a volte ci sono anch'io se vi interessa l'argomento venite non abbiate paura non vi mangiamo e ringrazio ovviamente il Mori Guido Mori e il mio padre per essere venuto qua grazie della grappa sì sì la quina e tra l'altro lo potete trovare su TikTok su Instagram e dappertutto se lo volete conoscere e conoscere le attività che fa anche fuori da TikTok e dai social insomma lo trovate su Ristorante Via di Quinceri c'è anche Mimà che è stanchissima l'hai portata qua assorbisti tutto questo se vuoi venire a salutare vieni mamma no non c'è voglia perfetto allora ragazzi vi saluto vi abbraccio vi do appuntamento alla prossima puntata di Radio Modaci e noi ci si vede fra tipo 5 minuti per il gaming ok datemi un attimo per i pigliami per salutare gli ospiti e arrivo subito da voi grazie infiniti ciao a tutti ciao ragazzi ciao ciao ciao